Il 40% della popolazione italiana soffre di vene varicose. È un problema che affligge soprattutto, ma non esclusivamente, le donne, che talvolta è persino fonte di imbarazzo, perché va ad impattare, diciamo così, anche sulla dimensione estetica dell'individuo. Ma perché si formano le vene varicose? E soprattutto, come si può risolvere questo problema? Ne parleremo questa sera con il dottore Elia Diaco, o angiologo presso l'ospedale Sant'Anna di Catanzaro. Buonasera dottore. Buonasera. Dottore, perché si formano le vene varicose? Le vene varicose si formano, in primo luogo, qualcosa di ereditario, che si eredita dalla propria mamma e dal papà, o dai nonni. Ma essenzialmente si formano anche per il lavoro che si fa. Le persone, le categorie più a rischio, sono le persone che hanno una postura in piedi e fanno, o anche le persone che sono in sovrappeso, ma anche, diciamo, delle persone che per determinati motivi assumono gli estoprogestinici, quali possono essere le pillole anticoncezionali, o anche delle persone che per lavoro fanno dello sport agonistico, si intende. Ecco, ci spieghi meglio, dottore, perché questi vasi sanguigni, ad un certo punto, innanzitutto sono vasi sanguigni, suppongo, normali che ne abbiamo, perché si spostano? Cosa succede nel nostro corpo? Perché si spostano all'esterno? Si ingrossano? Guardi, per far capire meglio al nostro pubblico, io sono un angiologo, quindi mi occupo di arterie e di vene. Tra l'altro, sono anche il presidente della società di angiologia e medicina vascolare, la SIA Pava Calabrese, che è una delle società più importanti in Italia, per quanto riguarda questa branca. Io mi amo definire l'idraulico del corpo umano. Perché? Perché le vene hanno un calibro solitamente di 2 mm. Col tempo queste vene si allargano, aumentano il calibro e arrivano a un calibro che va da 4 in poi. Solitamente le vene safene, quando arrivano ad avere un calibro tra 4, 6, 7, sono delle vene incontinenti, cioè non pompano più il sangue dal basso verso l'alto, cioè dal piede verso l'inguine, dove si trova la vena femorale, e poi attraverso la vena cava inferiore portano il sangue al cuore. Queste vene incontinenti, queste vene incontinenti, sono delle vene che col tempo si possono infiammare e quindi provocare la sintomatologia che tutti voi conoscete, che è data dal dolore, dalla pesantezza, dal gonfiore delle gambe. Ma dottore, quindi al di là dell'aspetto estetico e al di là del gonfiore, di questo senso di pesantezza che molte persone accusano, mi pare di capire che ci sono anche questioni, problemi di natura fisiologica importanti all'interno di questo problema. Le branche varicose non sono solamente un fatto estetico, ma sono soprattutto un fatto funzionale. Queste vene ingrandite di diametro, se si infiammano, possono provocare una flebbite all'interno e poi provocare dei trombi e fanno così formare nelle vene superficiali una tromboflebbite superficiale o nelle vene profonde una tromboflebbite profonda. Questa è la principale causa e la cosa più importante, perché un trombo all'interno di una gamba è un qualcosa di molto serio che va monitorato e curato nel giusto modo. Dottore, mi pare di capire appunto che non sia un problema assolutamente da sottovalutare, ma è un problema solamente femminile? Non è un problema solamente femminile. Noi curiamo e trattiamo tantissimi uomini. Certo, nelle donne è più frequente e lo spieghiamo perché. Perché nelle donne gli estroprogestinici, come dicevo prima all'inizio, sicuramente sono maggiori e quindi hanno un'incidenza maggiore rispetto agli uomini. Però, senza alcun dubbio, gli uomini sono anche loro colpiti, diciamo con una frequenza rispetto alle donne di 3 su 1. Lei diceva prima, dottore, anche, si riferiva molto anche all'aspetto genetico della situazione. L'aspetto genetico ereditario è molto importante ed è fondamentale. In tutti i casi che noi trattiamo e che noi vediamo, sicuramente troviamo la mamma, il papà o i nonni che hanno avuto delle branche varicose. Si presenta, dottore, solo in una fase avanzata della vita o anche in età relativamente giovane? Ahimè, anche in età relativamente giovane. Dapprima abbiamo delle telangiectasie dei capillari, che sono quelle venure rosse o verdi, che le ragazze ventenni vengono perché vogliono trattate. Ma questo è solo un fatto superficiale, un fatto estetico e non puramente funzionale. E poi, col tempo, si ha una dilatazione di questa vena, che è la vena safene interna, che aumenta di calibro e quindi si infiamma e può provocare, senza alcun dubbio, anche delle branche varicose extrasafeniche, che sono quei cordoni molto grandi che vediamo a livello della coscia o a livello del polpaccio. Ecco, giusto per dare ulteriori informazioni, anche spesso elementari, ma che non sono poi conosciute da tutti. Ci spieghi bene che cos'è questa safena e quale funzioni svolge e perché è così interessata da questo problema? Ritorniamo, giusto per far comprendere meglio ai nostri telespettatori, all'idraulico del corpo umano. All'interno del nostro corpo noi abbiamo dei tubi, che si chiamano arterie e vene. La vena, la vena safena interna, è la vena che percorre tutta la gamba, partendo dal piede e arrivando fino all'inguine, ed è la strada principale che riporta il sangue venoso a livello cardiaco, a livello del cuore. Quali sono, dottore, le soluzioni più utilizzate? Spesso si parla di soluzioni chirurgiche che spaventano molto, come l'estrazione di questi vasi sanguigni. La soluzione chirurgica è ormai l'estrema razio in una gamba che ha delle branche varicose e un'insufficienza venosa grave. Lo stripping, si chiama così in termine tecnico, delle vene safene, è una tecnica che è ancora utilizzata, ancora efficace, però sta per essere soppiantata sicuramente da una tecnica nuovissima che è la scleromus ecoguidata, o meglio, la scleroterapia mus ecoguidata. Che è una tecnica innovativa, che consente al paziente di avere una soluzione rapida in dolore del problema, non ci sono tagli, non c'è anestesie, non c'è sala operatoria, ma solamente con un piccolo aghetto ecoguidato che si infila all'interno di questa vena incontinente, di questa vena obbranca varicosa, seguita da un ecografo naturalmente che guida questo piccolo ago, noi riusciamo ad avere una soluzione definitiva, in dolore e rapida del problema. Questo mi sembra molto interessante, approfondiamo un attimo. Quindi io posso attraverso una semplice iniezione risolvere il problema. Come avviene? C'è bisogno di un ricovero? Ci spieghi? Assolutissimamente no, non c'è bisogno di alcun ricovero, non c'è bisogno che il paziente giunga alla nostra attenzione digiuno, ma può fare tranquillamente colazione. Il paziente deve solamente avere l'accortezza di portare con sé una calza compressiva che utilizzeremo nel post-intervento, tra parentesi, nel post-procedura, io la amo definire così, una piccola procedura e nel giro di un dieci minuti il problema viene tranquillamente risolto. Mentre un tempo siamo in un periodo difficile per la sanità calabrese, noi riusciamo a risolvere questo problema senza alcun ricovero, senza alcuna degenza e in soli 15 minuti. Insomma, mi pare una cosa molto interessante, ma sicuramente qualcuno a casa si starà chiedendo ma andrà bene anche per me, farà al caso mio. Quali sono, diciamo così, le situazioni nelle quali si può praticare e quali invece sconsigliano l'utilizzo di questa tecnica? Dipende dal diametro dell'avena. Se è un'avena che ha un diametro maggiore di 2 cm, sicuramente noi andiamo a consigliare un intervento chirurgico 2-2-5. Comunque è importante perché un diametro di 2 cm è un diametro molto grande. Riusciamo a trattare un sacco di casi, noi abbiamo una casistica importante dove nell'arco degli ultimi 4 anni in Calabria abbiamo trattato oltre 400 pazienti con degli ottimi risultati, rivediamo questi pazienti in maniera scadenzata e quindi vediamo soprattutto che non si formano delle recidive, è la cosa più importante. Quindi il problema è risolto in maniera definitiva, vi ripeto, in maniera indolore, senza alcun tipo di anestesia, senza alcun tipo di taglio. Sembra fantascienza, così come lo racconta adesso in televisione, però è la verità. Dottore, lei diceva, appunto, parlava di pazienti calabresi, quindi comunque questa è una tecnica che viene praticata anche in Calabria, non c'è bisogno di partire. È una tecnica francese. Noi ci ispiriamo a questa tecnica francese, ma è una tecnica, è un metodo, questa schiuma che iniettiamo all'interno dell'avena la si fa attraverso due siringhe, in cui una c'è un prodotto che viene dato in base alla grandezza dell'avena e quindi viene data una percentuale e poi questo prodotto liquido diventa schiumoso attraverso un metodo che è il metodo Tessari. Diventa schiumoso e viene iniettato, come vi dicevo, all'interno dell'avena attraverso un piccolo laghetto ecoguidato. Tutto qua. Una volta che io ho iniettato questo liquido, questa mus, questa schiuma, cosa succede alla mia avena? L'avena si contrae e si ritira, quasi subito. Abbiamo delle immagini che sicuramente possiamo vedere, in cui, ecco, questo è il prodotto che utilizziamo, gli aghetti che vengono utilizzati per iniettare all'interno dell'avena, avete un aghetto molto piccolo, che si usano per il prelievo, e poi la calza che si utilizza. Questo è un primo risultato della scleromusso. In alto vediamo queste branche varicose a livello del cavo popliteo, prima e sotto, subito dopo, si vede nettamente la differenza, non c'è alcun fotoritocco, è una gamba prima e dopo a distanza di 10 minuti. Questa è una grossa branca varicosa extrasafenica in un uomo, come si vede è abbastanza grande, siamo quasi ai limiti, e possiamo vedere subito dopo il risultato. Vedete, ci sono dei cerotti, perché là abbiamo iniettato il liquido schiumoso, però l'avena già non c'è più. Si indossa la calza, si fa una terapia locale, è una terapia per os, è una terapia sottocute per alcuni giorni, e il problema è risolto. Questo è un altro caso di una branca varicosa extrasafenica, di un prima e dopo. È evidente com'è grande sulla sinistra del teleschermo l'avena prima, e poi si contrae e si chiude a destra dopo. Bene, quindi diciamo, gli step sono questi. Uno va a fare una valutazione dall'angiologo, interviele, fa un ecodoppler, fa una visita angiologica, fa un ecocolordoppler degli arti inferiori, per valutare la funzionalità del sistema venoso superficiale e profondo, dopodiché si decide insieme la terapia da fare, che può essere una terapia medica, in cui si usano delle calze compressive, è una terapia per os, dove ci sono dei prodotti innovativi e sicuramente molto funzionali, al caso delle malattie venosa croniche, è così che ormai viene definita, e poi nel caso in cui troviamo delle branche varicose extrasafeniche importanti di un diametro, abbiamo detto che varia tra i 6 mm e i 6-7 mm e i 2,5 cm, possono essere tranquillamente trattati con questa tecnica innovativa. E poi come funziona il seguito? Per quanto tempo dovrò indossare la calza elastica? Per quanto tempo dovrò assumere dei farmaci? Diciamo, in 60 giorni il posto intervento, il posto trattamento, diciamo meglio, il posto trattamento in 60 giorni si ha una soluzione definitiva del problema. Bisogna indossare la calza per 60 giorni, fare una terapia per os e una terapia locale per 60 giorni, e entro 60 giorni il problema è risolto. Ma la cosa più importante è che dopo questo tipo di trattamento il paziente può ritornare sin da subito alla sua attività lavorativa, alla sua attività quotidiana. Il paziente si alza dal lettino, torna a casa e può ritornare a fare le sue faccende quotidiane. Dottore, ci sono dei periodi dell'anno nei quali è più consigliabile fare questo intervento? Tipo d'estate che fa caldo, va bene, non va bene, d'inverno? Sicuramente d'estate non è consigliabile, il periodo più adatto è questo, che va da ottobre fino a fine aprile e i primi dimagio. Ho capito. Dottore, ma una volta che io ho messo questa mus all'interno della mia vena, cosa succede alla mia vena? La mia vena muore, semplicemente si riduce, cosa succede? Questa vena diventa dura in un primo momento, in una prima fase e poi collabisce e si chiude su se stessa. C'è un filmato che sicuramente possiamo vedere dove si vede questo piccolo aghetto che all'inizio all'interno è rosso il sangue e poi ecco diventa subito bianco. Questa è una piccola vena che pian piano viene chiusa con delle branche varicose. Questo in maniera semplice, in maniera funzionale, è quello che succede quando c'è... e questa è una piccola branca varicosa che viene chiusa con una porcentuale di atossi sclerol molto bassa, 0,5, massimo 1%, e la procedura è molto semplice, questa che stiamo vedendo in televisione adesso, questo piccolo aghetto, questa piccola butterfly che viene messa all'interno dell'avena in maniera ecoguidata e che in pochi secondi chiude l'avena. Ecco già l'avena, si vede che sta per andare via. Sì, sì, infatti. Ecco. Tra l'altro notavo che è un intervento che dura veramente poco. Dura veramente poco, ha un ottimo risultato, nella maggior parte dei casi non dà recidive ed è ripetibile. Questo, diciamo, sono tutti gli aspetti positivi. Ci sono degli aspetti negativi? Ci sono dei possibili effetti collaterali di questo intervento? Guardi, è molto soggettivo perché noi abbiamo avuto dei pazienti, sicuramente che, ecco, vede, adesso l'avena è andata via in maniera definitiva. Pochi minuti e il problema è risolto. Il dolore, nei primi giorni, il portare la calza, che è un monocollant di prima classe, è per un periodo di tempo che va da 30 a 60 giorni. Ecco, questo è l'ecografo in cui si vede già l'avena all'interno che è chiusa. Lei, dottore, parlava di dolore, ma, appunto, possiamo tranquillizzare? È un dolore sopportabile, è un dolore che, le ripeto, è soggettivo e varia da paziente a paziente. Ci sono dei pazienti che sono ritornati, come le dicevo, sin dal giorno stesso alla loro normale attività. Ci sono dei pazienti che hanno piegato uno o due giorni, ma tutto qua. Non c'è degenza, non c'è ricovero ospedaliero, non c'è tagli, non c'è anestesia. Abbiamo degli enormi vantaggi. Dottore, in Calabria dove possiamo fare questo tipo di intervento? Chi sono, al di là di lei, che abbiamo detto, lavora al Sant'Anna, e ci sono degli altri centri? Dove può essere... Ci sono dei centri importanti. Su Catanzaro ce ne sono due. Il Sant'Anna Hospital di Catanzaro, che è sicuramente un'eccellenza per la cardiochirurgia, come voi tutti conoscete, ma è anche un'eccellenza nella chirurgia vascolare ed è anche un'eccellenza nell'angiologia. L'ambulatorio di angiologia del Sant'Anna Hospital ha ricevuto un attestato da parte della Società Italiana di Angiologia e Medicina Vascolare che sta per essere innovato, dove si accredita l'eccellenza di questo ambulatorio. È l'unico ambulatorio in Calabria che ha un qualcosa del genere ed è sicuramente fondamentale e sinonimo di garanzia per tutti i pazienti che noi vediamo e sono tantissimi, circa 300-400 al mese, che noi vediamo all'interno del nostro ambulatorio. Questi trattamenti su Catanzaro vengono effettuate anche al Minerva Surgical Service, che è un centro dove noi facciamo solamente questo tipo di trattamento sia sulle grosse vene, sulle vene safene, sulle branche extrasafeniche, ma anche sui piccoli capillari. E su Cosenza il Biocontrol, che è un'altra eccellenza calabrese, dove questo tipo di intervento viene effettuato. E per quanto riguarda invece la parte medidionale della Calabria, ci sono dei centri dove vengono fatti per chi ci ascolta da Reggio, da Vibo? Guardi, questo è l'unico centro per il centro sud. Ho capito. Da noi vengono delle persone, abbiamo trattato di recente le persone dalla Puglia, dalla Campania, dalla Basilicata, ma anche dalla Sicilia. Insomma, mi pare di capire che è uno di quei casi in cui la Calabria, che è sempre ritenuta fanalino di coda, invece si difende bene. La sanità calabrese, io sono convinto che è una sanità di eccellenza. Sicuramente la situazione calabrese non è delle più rose, ma abbiamo il mio onoro di lavorare con dei colleghi molto bravi, molto preparati, non solo degli angiologi che sono sul territorio della Calabria, ma anche degli altri colleghi. Io lavoro spesso con dei cardiochirurghi, con dei chirurghi vascolari che rappresentano l'eccellenza calabrese, sono dei bravi calabresi e degli ottimi professionisti che ogni giorno lavorano per cercare di portare avanti e di curare il malato calabrese. Dottore, al di là degli aspetti di cui parlavamo prima, dello stare in piedi, dell'ereditarietà, quali sono gli altri fattori di rischio per questo problema e come si può attuare una prevenzione efficace? La prevenzione efficace va fatta con una terapia compressiva, quando è necessaria naturalmente. Le ripeto, gli step sono i seguenti, la vista angiologica, l'ecocolordoppler, arti inferiori venoso, che è molto importante per valutare la funzionalità della vena. Ma scusi, va fatto se io ho dei dubbi o c'è un'età nella quale conviene farlo comunque, un ecocolordoppler? Fatto solitamente se si ha una sintomatologia importante che è la pesantezza delle gambe oppure il gonfiore delle gambe. Io ho delle pazienti e dei pazienti che variano dai 18 agli 80 anni. Ma le assicuro che abbiamo anche delle pazienti molto giovani che hanno dei seri problemi di insufficienza venosa, di malattia venosa, che hanno un'età di 20-25 anni. Sì, capisco. Invece, questo tipo di MUSE è insomma una novità importante. Ci sono, ci può anticipare, ci sono all'interno della ricerca medica in questo campo delle novità in arrivo, degli ulteriori step o abbiamo già raggiunto diciamo il top? Al momento non abbiamo nessuna novità. Stiamo cercando insieme con gli altri colleghi che lavorano in Italia e i colleghi francesi di affinare meglio questa tecnica in maniera da renderla sempre più efficace e per questo stiamo in collaborazione con altri centri che si trovano a Roma, a Perugia ma anche in Francia a Parigi stiamo portando avanti uno studio per capire quanti recidive ci stanno a distanza di 5 anni. Noi al momento su 4-500 casi trattati abbiamo delle recidive che sono inferiori al 2%. Insomma ci sono dei dati importanti e mi pare che il dottore questa sera abbia dato molta speranza a chi soffre di questo problema che dicevamo all'inizio è un problema funzionale è un problema anche estetico perché ci sono molte donne che sono costrette a non indossare più una gonna e che spesso si trovano in imbarazzo per via di questa situazione. Quindi il dottor Diaco questa sera ci ha presentato un sistema che mi pare altamente innovativo assolutamente incruento e indolore. Bene non mi resta dunque che ringraziare grazie a voi per l'ospitalità ringraziare il dottor Diaco per queste importanti novità e darvi appuntamento alla prossima puntata di Zoom Salute. Buonasera. Grazie. 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 Grazie.